Ragazzuoli, benvenuti su questo nuovissimo video. Oggi vi porto un video diverso dal solito perché non si tratta di una partita in pubblica come tutti i video che vi porto appunto sul canale, ma si tratta di un game vero e proprio appunto competitivo. Inoltre ragazzi sono davvero felice di annunciarvi che sul Grand Final del Gauntlet in Duo, che quindi sono le ranked che hanno aggiunto di recente, ci siamo classificati e qualificati primi in Italia e 48esimi in Europa. Ovviamente ci sono stati anche altri telani che si sono qualificati, questo ci tengo a precisarlo ragazzi, però era semplicemente per dirvi che io e il mio partner Barca siamo attualmente i primi nel Grand Final del Gauntlet in Duo che hanno organizzato la settimana scorsa e in top 50 in Europa. Sono davvero felice dei risultati ragazzi perché ci siamo allenati tanto e mi impegno tanto ogni giorno a portarvi gameplay di qualità e a farvi capire quanto realmente io possa valere, visto che ci sono tanti commenti di persone che purtroppo ancora oggi nel 2019 sono appunto sessiste. Quindi niente ragazzi, questo è il risultato del torneo e adesso godetevi il video. Buona visione! Se volete supportarmi su Fortnite basterà andare nell'item shop, cliccare nel rettangolino in basso a destra e andare ad inserire il mio nome, ovvero Kratomis. Accettare e il gioco sarà fatto. Non appena avete inserito il codice lo vedete scritto qui in alto a destra. Ringrazio tutti coloro che decidono di supportarmi. Dobbiamo far cappare l'inizio Barca, se riusciamo a prenderci loot bene a Tometo... Però sto bus era meglio... Era meglio dall'altra parte così andavamo a Tometo per ultima, andiamo a stickare Tometo e basta. Ok no, si è buttato qualcuno. Mi sa che uno va ai ponti però. Valla a Barca ma è di parte. Barca! No, valla a Barca. Uno ti segue, posso andare ai cannoni? Che è tutto clean? Barca è clean, è clean. È clean. Dammi pure. Però c'era uno close da te, sicuro che sei clean? Non lo so eh. No, non è venuto, è la skin delle pesce. No, aveva tipo un motociclista, aveva un casco in testa. Quello da rugby. La prima casa no però. Ah no, quello è un coniglio, niente. Vai, andiamo. C'era un tizio, ti posso... C'era un tizio dentro. Mi ha tirato in razza, non fa più il gare. Non fa più il gare. Andiamo, se andiamo, non lo ho detto. No. È solo però. È solo? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Io gli tiro tre stighi. Arrivano le tre stighi, aspetta. Non lo so. Mi è. Mi passa. È solo. No, non è solo. Non è solo, no, 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 no. Dovevo andarcene? Non dobbiamo prenderlo. Non lo so. Vieni di qua. Vieni, vieni. Mi ha distrutto, mi devo curare un attimo. Io gli sciogini. Ok, due me ne serve. Coltogli la porta. Possiamo anche convivere. Non so se il capo è uscito o se lo intendo. Vuoi convivere? È dipendendo da loro, non da me. Lo vedo. Ok. Ok. Si, ho visto. Mi metto il muro. Ok. Continua. ha preso il pavimento arrivo da te ferma facendo questo muro da sopra guarda che bravo dobbiamo andarcene pure hai un pad no ma ce li possiamo fare uno non si è curato a 50 hp infatti sono di pavimento ok vanno di là vieni con me no non possiamo che stanno andando però non possiamo vendere la visione allora ecco li li vedo voglio mettermi vicino al loro muro non me ne frega un cazzo non lo so potremmo usarlo vai saliamo da qua faccio sempre le trappone vale sul tetto no prendiamo troppi danni mi sa sono morta sono morta sono morta sono morta sono morta guardi e mi capi non posso salire da te ma come hai fatto vieni ce la fai sotto di me che è possibile hanno il baret hanno il baret hai cura il palo ti serve pure ho una surpa in canna ok allora forse io ho finito le cure è una forza 50 abbiamo ancora il rift giusto siamo in 42 io ho solo pump scar e rift non ho nient'altro fra manco venimi con me vai siamo sopra ok no niente mettiamoci qua su quelle di legno ce la fai meglio sopra no farà dietro è meglio dietro no io sto bene qui è safe però ti apro abbiamo un team qui molto nervoso dopo ho il muro in legno li vedi questo muro l'ho fatto io occhio lo so lo so lo so coprimi dietro le scale è incazzato eh non lanciarazzi se ti prendo questa mura aspetta no 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 citato 76 blu ti apro ti apro ti apro vai passa 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 pure se vuoi venga vai vai ci sono ancora lì eh c'era una volta in quarta c'era una volta in quarta ci sono sopra ci sono pure aspetta che fuccio un altro lì ok vieni sotto sotto vieni nel low ground riftiamola riftiamo qui ah hai trappola hai una trappola la metti vieni qua aspetta c'è qualcosa qua vai vado subito io aspetta vai ora 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 tiramiti vai vai vieni qua sopra che cazzo ne fa eh no 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 devo andare in picchiata io eh vai vai storm surge cazzo mi hai dato una kill di trappola brava la storm surge però vieni qua no no ancora non è top 3 non è top 3 lotta per quella aspetta un atto c'è gente sopra la cattro a casa c'è gente dietro gente a ovest top 12 vai è la lumi vai bravissima lascia perdere vai per la sinistra vabbè oh dg let's go baby io ne avevo 3 mamma mia quelli l'acqua me li ho scopati dg cazzo son contentissima perchè una stigione ci siamo allenati troppo per fare se duos abbiamo preso man mano sempre di più abbiamo sempre avuto più feeling man mano questa cosa è troppo fucking kregas che bello raga son contentissima veramente veramente contenta ragazzi abbiamo fatto abbiamo siamo andati veramente bene chat siamo andati benissimo e per essere soddisfatta e perchè sono andati